Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Saintro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Certo, ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo fatto fuori Mr. Sunshine E sono abbastanza sicuro che il generale sarà incazzato di tutto ciò, quindi prendiamoci 10.000 dollari Sulla strada c'è un negozio di munizioni? No, ce n'è uno qua, è un po' lontano ma almeno andiamo anche a prenderci un po' di cibo prima Ah, è un ristorante cinese, perfetto Mi piacciono gli involtini, certo che però per 100 dollari magari anche no, però potrebbero avere anche la carne più buona del mondo Ma due involtini 100 dollari magari proprio no Eccoci arrivati, compriamo un bel po' di munizioni Ormai credo di aver comprato quasi tutto, quindi non c'è neanche da preoccuparsi che cosa prende Però prendiamo un po' di flashbang, si sa mai che possono essere utili Ed eccoci arrivati, perfetto, parcheggiamo la moto E andiamo Attacco al distretto 31 Ma sono io? Ah no, è Shondi, ok Quello è vero Beh, è vero Mi piacciono, puoi andare 5 minuti senza cuore una lunga, non solo 5 metri Sono piena di sorrisi Sorrisi me, mi chiede come siamo a prendere il generale Beh, quel creepo è sempre guidato in quel limo di loro, certo? Quindi ho pensato che la più facile da trovare è andare a tapare le cammeri di traffico a la stazione polizia Non so se più facile sarebbe la parola che usurrei Ok, quindi non è la più facile, ma è la più rapida Inoltre, ora ho potuto tagliare Sei tu alto o non ricordi la parte dove ti ho detto che non sarei bambi Ok, vieni con me Che carina che è Shondi Poi con quel pantaloncino, mamma mia Ci fai una bella figura Ok, quindi abbiamo bisogno di un travestimento Fammi vedere la telecamera Allora, dobbiamo andare fin qua in fondo Perfetto Devo comprarmi un controller nuovo Questo qui I tasti ormai non vanno più benissimo Secondo me comunque il volere di Shondi Di voler venire per forza con noi Già anche l'altra missione È un modo per lei di redimersi dall'altra volta che si è fatta rapire Per far vedere non sono una bambina Io effettivamente sono qui Posso aiutarti Fermo 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 Fermati No, sto cazzo di controller Ho capito Ho capito Penso di sì Va bene Si entra nella stazione Eh, lo so, c'è ragione Spero più che altro che il controller non faccia scherzi Salve signora poliziotta Welcome to the Stillwater Police Department How may I help you? Word is you got some broke ass computer We're here to fix the computers in the monitoring station God, there's always something acting up in this place Vabbè Grazie signora Cosa stavo firmando che non c'era niente sotto? Ma mettimi almeno un foglio bianco, no? E eccola qua, perfetto Con calma, non c'è neanche bisogno di essere precipitosi Hai capito i poliziotti? C'hanno il tavolo da biliardo, gli arcade, i flipper È così che paghiamo le tasse per dargli a loro del tempo per svagarsi? Vabbè dai, in realtà Perché? Perché è partita la sparatoria? Ma scusami, ma sono autorizzato a stare qua io Ma non ho capito Non ho capito perché è partita la sparatoria Boh, vabbè Forza Tu vai, io ti proteggo Ah, meno male che Meno male che le scale effettivamente sono un muro Sono un muro veramente E loro non passano Io sto così, guarda Funziona, voglio dire È la tattica migliore Io resto qui Io resto qui fermo Tu fai con calma, Shondi Arrivano altri Arriveranno da sopra o da sotto Ma io sto qui Cioè, sto camperando di bestia E va bene così a questo punto Va bene così Tutto bene là dietro? Certo che con stimi tre qua in mano Sono proprio bello io Se questa è la sicurezza della stazione di polizia Mamma mia Siamo in buone mani Vai, vai, vai Tanto Non arriva più nessuno E quindi Come va là dietro Con quei televisori a tubo catodico? Sono a metà? Solo? Cioè, tutto sto tempo Sei solo a metà? Santo cielo Detective Brr E lelipad Si trova di qua Perfetto Magari dopo andiamo a fare un salto al detective Che te ne dici? Non è che se mi muovo adesso appare qualcuno? No, niente Cioè, mi sto muovendo E comunque non appare nessuno Ah, ma fai Ah, uè Ho capito perché Perché in teoria Finché rimanevo lì Era tutto chiuso Cioè, non si aprivano le porte Per quello non c'erano nemici Vabbè, ascolta Meglio che mi sono mosso Almeno è apparso qualcuno Mi stavo sinceramente annoiando Dite che dovremmo scappare con l'elicottero dopo? È molto probabile È molto probabile Vieni, vieni Ma Ok, dammi un attimo Perfetto Vieni Shondi Dobbiamo scappare Forza Sali su, sali su Ah, benissimo Questo non ha neanche un mitra Non ha niente Giustamente Dobbiamo scappare dagli altri elicotteri Che sono più armati di noi Aspetta Probabilmente il gioco Ti mette l'elicottero lì Per fartelo usare Però Probabilmente non è inteso Che tu debba usarlo per forza Perché Oh, calmo Non è inteso che tu debba usarlo per forza Perché Calmati, calmati Elicottero In teoria Mentre stavamo uscendo Dalla stazione di polizia C'era un segnalino Che mi diceva Con la freccia in giù Di scendere Ok, siamo arrivati Quindi tu hai due possibilità Per scappare Verrà pagato per questo Eh Ah che bellini Tutti vestiti così Oh Per passare del tempo assieme Che patata Attacco al distretto Quanti soldi 25 mila dollari La madonna E altre missioni disponibili Beh In realtà la missione È già disponibile qua Volendo Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti